Davvero siamo particolarmente contenti, oltre un milione di visitatori. Oggi si concludono le attività dei mercatini di Natale in Piazza Grande, della Casa di Babbo Natale del villaggio Lego al Prato, ma siamo veramente contenti come Confcommercio di aver valorizzato ancora una volta il centro storico con le nostre attività. Numeri da capogiro per il mercatino tirolese in Piazza Grande che chiude i battenti dando appuntamento al 2019. Una collaborazione quella fra Ascom e Fondazione Arezzo in Tour che farà ricordare questo Natale. Per Arezzo, ormai meta turistica riconosciuta dal grande pubblico, siamo ad una svolta. Anche il giorno di Natale, che magari è un giorno in cui invece si passa con parenti, amici, è stato veramente un giorno di grande afflusso. Sì, davvero, quasi inaspettato, ma tanti turisti da fuori, tanti aretini che sono dopo il pranzo classico di Natale venuti ai mercatini, al Prato. Quindi davvero una bella esperienza che si conclude, ma stiamo già pensando al futuro. Già lavorando per l'edizione 2019, saremo a Francoforte, alla Christmas World, a presentare appunto i mercatini di Natale e a continuare questa promozione costante che ConfCommercio vuole ancora di più rafforzare nei prossimi anni. E se gli eventi targati ConfCommercio sono rimandati di un anno, quelli della città del Natale accompagneranno invece turisti da retini fino all'Epifania, con tutti gli eventi ospitati dal Prato con ferme e novità. Sì, noi abbiamo fatto questa scelta di continuare fino alla Befana, perché siamo convinti che, e anche i dati ci danno ragione, che ci sarà comunque movimento anche in questo periodo, tenendo di conto che i prossimi due fine settimana, uno è quello di Capodanno, che comunque gli alberghi sono già quasi completi, quello dopo è la Befana insieme alla Fiera Antiquaria, quindi siamo convinti che anche quello sia un bel fine settimana. Tante attività, inizieremo in settimana questa che viene con i corsi di pattinaggio, per chiunque vuole fare, basta andare sul sito della città del Natale e troverà tutte le informazioni. Un po' di attività anche per i teenager, quindi il venerdì sera, i prossimi due venerdì sera, ci sarà un po' di musica anche per animare magari un po' questa giornata. Poi ci saranno delle band itineranti in collaborazione con Confesercenti, torneranno in via Bicchieraia gli antichi mestieri. E poi al posto della Lego che chiude in questi giorni, intorno al 28 aprirà una Game Arena, dove all'interno ci saranno sia 10 piste delle macchinine, quelle che noi chiamavamo piste polysteel, molto particolari perché è un percorso un po' tipo mini golf, quindi ti puoi scontrare con gli amici. Poi 10 postazioni tra console e personal computer, dove è possibile fare anche in questo caso videogiochi in rete, quindi divertendosi un po' e poi abbiamo comunque rimesso anche un po' di Lego per chi vuole proseguire questa attività. Quindi tante cose, nella speranza soprattutto che continui ad animarsi il Prato, come lo sta facendo in questi giorni. Anche ieri che era Natale, siamo rimasti sorpresi perché c'era veramente tantissima gente. Ecco, le disposizioni però di chiusura del centro storico rimarranno o cambieranno? Ma ancora questo non ne abbiamo parlato, abbiamo giunto nei prossimi giorni, dipende un po' anche dalle previsioni di numero di persone e di affollamento della città. Hanno funzionato bene, ovvio che ora si va in un periodo che non avrà gli stessi numeri di quelli passati, però comunque siamo sempre molto fiduciosi, quindi lo decideremo normalmente tra domani e venerdì. Quindi anche per il fine settimana del Capodanno, il 31 e l'1, comunque tutte le iniziative saranno aperte? Sì, tutte aperte, tra l'altro ricordo a tutti che pista e ruota sono aperte tutti i giorni, il sabato sera addirittura fino a l'una e mezzo di notte, quindi per l'ultimo dell'anno sarà possibile anche vedere magari i fuochi o festeggiare comunque in ruota. E dopo è ovvio che altre attività, come per esempio le casine, chiudono un pochino prima. Tra l'altro ci tengo a fare i complimenti perché ci sono stati veramente nove imprenditori aretini che hanno scommesso insieme a noi in questa avventura con grandi sacrifici perché sono qui a lavorare per Natale e Santo Stefano e Capodanno, quindi gli voglio fare i complimenti e spero che il prossimo anno siano sempre di più.